Il campo basso liquida, lava stesse senza troppi problemi, 3-0 il finale e dà una risposta di forza rispetto alla recente crisi di risultati e alla penalità di meno uno inflitta venerdì scorso. Di fronte un avversario affidato a Papanni che dura 20 minuti salvo poi sparire dal terreno di gioco. Si gioca di fronte a circa 450 spettatori in una giornata primaverile. La nota stonata di casa, il quarto calcio di rigore fallito su sette assegnati al campo basso. Stavolta è toccato a Cogliati, succede poco nella parte iniziale. Al diciassettesimo è Fiore a liberare la corsa verso la porta di Palumbo che da defilato conclude fuori. Ancora gli abruzzesi al ventiduesimo con De Meio che decide di fare tutto da solo, compreso un tiro che termina di poco alto sulla traversa. Campobasso avanti alla prima vera sortita offensiva. Al venticinquesimo tutto nasce da una punizione calciata da Giacobbe che si infrange contro la barriera. Il tiro di Lobello diventa un comodo assist girato in rete dall'italo albanese Islamai che realizza una bella marcatura, quella che sblocca lo 0-0 di Selvapiana. Nel giro di soli dieci minuti la squadra di Bagatti è brava ad annichilire l'avastese. 35esimo bis servito con Giacobbe che da 16 metri riesce a freddare Patania che rimane di sale. Giacobbe torna al gol dopo più di un mese di astinenza. Non segnava infatti dal derby contro l'Isernia. L'avastese cerca di reagire rispetto al doppio colpo incassato. Al 39esimo è Fiore a scoccare un tiro che secondo l'arbitro Magri intercetta di braccio al limite dell'area. Il difensore di casa protesta platealmente facendo notare dove la palla gli è effettivamente sbattuta. La punizione viene calciata da Fiore e forse sporcata da un gomito troppo alto di Cogliati in barriera. Ma si può giocare per il direttore di gara. Il primo tempo si chiude con il rosso-blu meritatamente avanti per 2-0 grazie ad un'ottima prestazione. Di fronte a una vastese che a Selvapiana ha dimostrato tutti i suoi limiti anche realizzativi. Con le immagini nella ripresa al primo Bagatti fa entrare Antonelli al posto di Islamai che si fa male in area di rigore dopo uno scontro di gioco. Al settimo da calcio d'angolo di Danucci in area c'è una spinta troppo affettuosa di russo ai danni di Magri per la signora bolognese Pirriatore. Calcio di rigore dal dischetto Cogliati. Prima si lascia ipnotizzare da Patania sulla respinta. Poi è Di Giacomo ad anticipare in corner sempre Cogliati. Papanni dà al via la girandola dei cambi fuori Russo e Palumbo. Dentro Iarocci e Cicerello. Tutto questo dal tredicesimo al ventesimo Cogliati vuole rifarsi. Conclusione forte ma centrale respinge il portiere ospite. Poi carambola di Del Duca proprio su Cogliati per Pirriatore. Si può proseguire. Si leva qualche protesta da parte della punta di Bagatti. Il tecnico di casa fa entrare dal venticinquesimo Musetti al posto di Alessandro. Dall'altra parte è fuori Fiore dentro Stivaletta. Gli abruzzesi non riescono a dare pensieri a Sposito mentre i rosso-blu trovano il trisse al trentunesimo. Da corner stacca Marchetti che realizza palla alle spalle di Patania mentre protestano gli ospiti che chiedono una spinta dell'autore del gol ai danni di Del Duca al dato di colpire la sfera. Il campo basso archivia la gara e il tecnico ne approfitta anche per far entrare Ranelli e Leto. in luogo rispettivamente di Danucci e Giacobbe. Lavastese prova a dare segnali di vita al trentacinquesimo. Tiro a giro di Capellupo respinto da Sposito. La palla giunge a Palestini che conclude. Sulla traiettoria c'è Sciba che sfiora. Il portiere di casa respinge. È in seconda battuta e poi bravo a neutralizzare. Sempre un tentativo di Sciba. Cogliati prova a mettere una pezza rispetto al penalty sbagliato. Quarantaduesimo diagonale I che incoccia il palo. Sfortunato qui l'attaccante di casa. Ha segnalati quattro minuti di recupero al primo dei quali ci prova l'ex di turno del Duca. Ma Sposito fa buona guardia. Finisce con la festa fra pubblico e squadra. E con l'auspicio che il campo basso da qui alle prossime sette settimane possa rendersi protagonista di un ottimo finale di stagione. Papanni, debutto amaro sulla panchina della Vastese. Il campo basso ha meritato di vincere? Assolutamente sì. Anche se devo dire che nella prima frazione del primo tempo, nei primi 20-25 minuti, ho visto una squadra molto attenta, molto disponibile dal punto di vista del gioco, del possesso palla, della pressione anche alta in alcune circostanze che ha creato difficoltà al campo basso non sono sufficienti perché poi dopo il gol subito naturalmente si è messa dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista tattico a favore del campo basso. Non siamo riusciti a reagire. Mancano sette giornate. Leonetti vi mancherà per altri tre turni. Come farà per salvare la Vastese? C'è soltanto la strada del lavoro. Come dicevo prima ai suoi colleghi, io credo che in questo momento noi abbiamo pochissimo tempo per crescere dal punto di vista degli apprendimenti. Dobbiamo fare un surplus di lavoro e credo che c'è tanto lavoro da fare e ci vuole tanto impegno. Con il sacrificio e con il lavoro credo che abbiamo le possibilità di tirarci fuori. Vedendo i risultati c'è adesso ancora più bagarla in quella zona e quindi sappiamo di dover aspettare anche il recupero di alcuni infortunati perché abbiamo anche una situazione globale sia per quanto riguarda gli under che anche per quello che riguarda gli over di giocatori da recuperare. Però siamo fiduciosi che ci sarà la crescita.